Salve amici bentornati nel canale ricette fai da te. Siamo a novembre e dobbiamo fare la pulitura dell'orto. Tra l'erba ci troviamo anche i pomodori sia a pianta che in terra. Tra i pomodori marci troviamo anche i pomodori acerbi o rossi ancora buoni. Noi non li gettiamo via, li raccogliamo facendo la provvista del pomodoro fresco per tutto l'inverno, esattamente come faceva la nonna. Tra le piante da buttare via o bruciare ho ricavato una buona cassetta. Facciamo insieme la conserva del pomodoro fresco appeso o sfuso per l'inverno. Taglio a grappolo i pomodori dallo stelo. Li poso in una bacinella oppure una cassetta di legno. Separo il pomodoro a grappolo da quello sfuso, sempre fresco. L'erbaccia ci servirà per il composto. Nel frattempo vi invito ad iscrivervi al canale amici, attivare la campanellina a tutte le notifiche, condividere il video tra amici e parenti. Facciamo per prima la conserva del pomodoro sfuso. In una cassetta di legno ci metto un po' di paglia al fondo ed adagio i miei pomodori ancora freschi su di essa, facendo attenzione di non unirsi tra loro, bensì distanziati. Adesso i pomodori appesi. Taglio uno spago circa un metro lungo, lo unisco e dentro adesso adagio i miei pomodori a grappolo. Esattamente così come vedete in video. E cioè, stelo all'interno, pomodoro all'esterno. In pochissimi minuti ho fatto la mia provvista per l'inverno. Adesso andiamo a conservarla. Il luogo di conservazione deve essere fresco e buio. Si manterranno intatti fino a marzo del prossimo anno e noi avremo sempre il pomodoro fresco durante l'inverno. Facile no? Questa provvista potete farla anche con i pomodori acquistati. Scrivete nei commenti se avete dubbi o altro. Ciao, alla prossima!